Il nuovo decreto legge sul Covid prevede di estendere l'obbligo vaccinale alla terza dose per i sanitari a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Inoltre si ricorda che è già consentito l'anticipo della terza dose dopo cinque mesi dalla seconda. Il governo ha annunciato di voler aprire dal primo dicembre la terza dose agli over 18 e manifestato l'intenzione di avviare campagne vaccinali se autorizzate per la fascia di età 5-12 anni. E dopo le categorie sanitarie l'obbligo vaccinale viene steso anche a tutto il personale scolastico e a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il governo ha fissato al 15 dicembre la data in cui entra in vigore l'immunizzazione obbligatoria. Nel dettaglio le nuove categorie coinvolte saranno personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria e personale del soccorso pubblico. La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L'obbligo di Green Pass viene steso dunque a nuove ulteriori categorie. C'è il settore alberghiero, spogliatoi per attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario, regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico, locale. E poi a decorrere dal 6 dicembre arriva il Green Pass rafforzato. Vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti e serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Gli ambiti sono gli spettacoli, gli spettatori di eventi sportivi, la ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. In caso di passaggio in zona arancione le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori di Green Pass rafforzato. Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Debba essere utilizzato anche in zona bianca. E poi in zona bianca però sarà valido anche il Green Pass ottenuto con il tampone per accedere ai ristoranti all'aperto, palestre, piscine e in generale alle attività sportive. Il decreto prevede un rafforzamento del sistema dei controlli. Entro tre giorni dall'entrata in vigore del DTL i prefetti sentono il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ed entro cinque giorni adottano il nuovo piano di controlli a livello provinciale, coinvolgendo tutte le forze di polizia. Si tratta di controlli costanti di cui le prefetture sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministro dell'Interno.